Io non voglio fare l'arrogante, ma avete in mente quando dico che Venezia è la città più internazionale d'Italia perché è sia un orgo paese, ma allo stesso tempo posto dove viene tutto quanto il mondo Adesso vi porto a vedere il posto dov'è che però non è facile perché c'è scritto solo dei frari e 3106 che è il civico e lo sto cercando Fosse appena passato il postino l'avrei chiesto a lui Anzi no, io a casa c'ho lo stradario, andiamo a prenderlo Ok, boom Qua ci sono i frari, dobbiamo cercare il 3000, 2007, 2008, 2008 3030 Dai frari bisogna andare verso San Rocco, forse qua di fianco Ci siamo, 3110, la sera Sì, c'è anche scritto dei frari, perché dei frari viene scritto sui margini di isola Fabam, beccato Tra l'altro il Castelforte è un edificio che un giorno vi dovrò raccontare Opla, vedi, vado ora qua Vedi, qua, l'angolo, le casche, le finestre sono queste E là ho letto, 3106 In città tutto il mondo ci passa Se noi riuscissimo a collegare questa gente al destino della città avremmo fatto bingo Fa culo, vado Sì, città Sì, città